Il tuo udito non è più come quello di una volta. Ti senti isolato in mezzo alla gente? Risolvi il problema una volta per tutte. Acustica Gatta. Da oltre 30 anni, solo protesi di qualità e delle migliori marche. Vieni a trovarci. Saremo a tua disposizione per un controllo gratuito dell'udito e una prova dell'apparecchio senza impegno d'acquisto. Acustica Gatta ti garantisce professionalità e cortesia, apparecchi innovativi ed ultima generazione, assistenza gratuita a domicilio e pagamenti personalizzati. Acustica Gatta. Sentire meglio per vivere meglio. In via Gennaro Sardi 60 a Sulmona. E per gli eventi diritto, fornitura gratuita della protesi a carico di ASL e ENAIL.